Ciao a tutti! Oggi siamo qui insieme alla nostra amica Marika, un ospite speciale e anche lei con i capelli lunghi per fare il personality challenge. Personality challenge, vi chiederete, che challenge è? È una challenge che consiste nel prendere questi bigliettini. Quanti sono? Quattro. Quattro di tutti i divi. Dentro ci sono scritti dei personaggi diversi, dei personaggi che conoscete bene. Per esempio, sorpresa. È una sorpresa perché dovremo pescarli e non si sa quali sono veramente. E perciò iniziamo. Ecco, apriamo. Allora, vediamo un po' quello che ho scritto. Mummia. Guardate, mummia! L'ho scritto io. No, vabbè. Tutta la cartigenica così. Tutta la riga. Intanto si mette qui. È mummia. Come si fa a fare la mummia? No, perché io devo fare tutta la mummia? Perché c'è la cartigenica? Non lo so perché c'è la cartigenica. Iniziamo! Vai. Allora, iniziamo bene. Ecco, bravo. Ragazzi, non è per niente semplice. Guardate quanti pezzi si sono rotti. La cartigenica. Allora. Ragazzi, siamo quasi alla fine. Uuu, è divertente ora. Pronta? Non vedo niente quando l'agnole mi fa il vento. La faroncina della mummia. E adesso starà qui. Fermali, fermali. Comunque ragazzi, dovete scrivervi se vi piace questa mummia che è davvero bellissima. Guardate. E vi piace davvero tanto. Vi piace tantissimo. Ragazzi, questa è la mummia finita. Vi piace a voi questa mummia? Ero io la mummia. Fa paura? Capito, Marika? Certo. Guarda. Guarda. Ragazzi, cosa c'è scritta? Sirena. Ragazzi, la sirena è un personaggio che conosciamo super bene. Anche quella volta che ho bevuto l'acqua, che era l'acqua che ho fatto in voi diventare una sirena. che è stato il mio primo video, che è stato il mio primo video, che è stato il mio primo video. Grazie. Prego. Iniziamo! I piedi no, eh. Lo so. Allora. Bracado. Ferma. Come si fa? Equilibrio. Equilibrio. Ma ce la fai? Sì. Faccio io. Ho fatto. Ma dove si appiccica da solo? Questa è carta. Eh, qui. Carta, 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 carta. Ah, che benessere. Stai con i ferri. Ragazzi, ho quasi fatto. Però ancora non mi manca. Ragazzi, ho quasi fatto. Finito, ragazzi. Chiudi occhi, Charlotte? Ok. Chissà cosa mi aspetta. Allora, cosa stai facendo? Niente, ti stanno facendo una termine. Ah, è in piscina, Sirena! Svedere. Ciao. Ciao, Sirena. Ciao. Ciao, Sirena. Ciao. Ciao, ragazzi. Non ce la farai mai. No! Bene. Buongiorno. Buongiorno. Ora è il momento dei saluti. Saluti! Saluti! Ebbene sì, voglio salutare Martina, Cristina, Linda, Olimpia, Irene, Stefano, Unicorno, Cucci e Gattigia! Ciao ragazzi! Ciao! Vieni qui sotto nell'infanzo! Ciao! 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 Ciao!